Non lo uso proprio il coltello, infatti l'ho messo adesso, perché li voglio sbloccare Ehi, c'è qualcuno Come sta qualcuno? C'è qualcuno, qualcuno ha fatto... Hanno sparato la tip... Sì, sono di qua Dove, dove? Uno fatto Occhio, non pusciate lì un attimo Ok, qua su qua Ferito Bravi Questi non sono neanche male, secondo me, raga Due, terzo dov'è? Uno sta qua dentro Ho sentito che avverto la porta qua dentro Occhio a pusciare così, eh? Sì, sì, tranquillo Date fuoco all'amici, intanto, se avete qualcosa Trovate una lanterna Trovate una lanterna, eccola Uno è entrato laterale Ha aperto il portone quello di ferro, capito? Quale? De fuoco Questo qua è un po' come vado, no? Sì Eccolo, 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 questa qui Occhio Sta sotto Morto Corri, Giovanni Uno a testa e palla al centro No, no, non ho fatto capri questo Ah, ok Io, io, lui ho sparato e lui è scappato verso capri Occhio, questo in... Ah, no, tu che sparavi prima dalla dietro? Sì, l'ho sperato Primo tir non è andato Questi qua sai che secondo me non erano malaccio? Eh, penso pure io, sai Questo qua si è preso... Cominciare la partita Questo qua si è preso una legna sui denti Questo lo spegno, lo vogliamo luttare? Ma sì, a me interessa... Dov'è? Ah, io sto consumendo là Posso già potenziare il mio... Martini Harry? Qualcosa? Questa va allo spring Questa va allo spring Eccolo, eccolo, gente, 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 gente Io sto tossendo, scusate, ma... Level Ok Stavano di là su quel cancello Ma non lo so, lo passano Se da sinistra o da... Sei tu, Mimmo? Eh, si ha fatto spaccare quel cazzo Ma che per me era rompere il cazzo Il silenzioso Quello che mi mancava proprio Vabbò, io entro un attimino qua Eccoli, stanno qua Inghietro è già se hai difficoltà Dove dico? Vabbè Oh, ecco, lanciano Stanno dietro a sto muro qua Eccolo, uno sta arrivando Uno arriva verso di voi, eh Da quale parte? Passato di là Ok Allora, uno che era col cappello È andato verso la destra E un altro che ho sparato adesso qua Quindi stanno dietro a sto muretto qua Io ancora non l'ho visto neanche uno, raga Da qua Guarda la tetto, stanno dietro al muretto Guarda come corrono, eh Lo vedo Uno è fuori di lì, raga È accovacciato che sta andando verso destra Dietro quel muretto qua È accovacciato, eh Occhio Quale muretto? Questo è andato a noi? Lì dove ho sparato io Eh, non ho avuto da sparare È dietro qua Occhio, lancia, lancia, lancia Occhio È un coglione che sta continuamente Accovacciato Aspetta, aspetta Le pushiamo in due in cassa Perfava questo Occhio Ancchio Ho preso una bombon Ho preso una concertina, uno Occhio, uno sta al destro, uno sta all'altro bravo grazie che avevo finito i colpi tra l'altro ho hitato dieci volte non c'è più non l'ho sentito io l'ho sentito no quello là dentro è morto raga gli è scoppiata la testa sono sicuro esco io che se muoio io la massa no 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 io sto bene qua deve essere il secondo quello quel cappello che ha preso la concertina è morto minimo non lo so questo qua è morto sicuro questo è morto quello di qualcosa verde ok minchia quello aveva il pompa ma ha pusciato meno male che sia arrivato anche al cappottonello dove è il cappotto nel nuovo che sta via qua sta un coglione una tipa un altro che richiesto sta è morto è ok quello che ammazzato via me ne manca il terzo di questi ce l'abbiamo qualcosa verde a fuoco ci mettiamo poco questo se volete luttarlo intanto ma ce n'è un altro la questo quello che ti ho ucciso che ti ha sparato questo qua era a cazzo questo che non ce l'avevo contato proprio io non lo so tre a posto guarda che è quello che ti ha ucciso che ti ha sparato allora luttare a posto sono tutti e tre è rimasto solo il team delle taglie 1 2 3 1 2 3 a posto su tutti e si è dimostrato quello delle taglie perfetto se volete un buon pane che c'è un uppercut questo qua c'è uno spettare un uppercut questo ma l'appercut me la prendo ancora due partite che porto a casa uppercut e le belle dove è? questi stanno avvenendo qua ah stanno andando secondo me verso il fortino stanno andando no no verso il fortino stanno andando mi sto a vedere sulla mappa per fare il secondo vuoi dito? non è per uscire ma che stanno andando di qua eh io sto andando là da loro venite qua venite qua voi più state coperti meglio è con quelle armi qua no? beh come stanno andando per andare? se se ne vanno cosa faccio? sono davanti eccolo uno lo vedo ma hanno visti quel segnale? no non ci credo si è fermato lancia via fatto uno è morto ok dove? eh lì davanti è timehands un altro è morto un altro è morto manca l'ultimo che mi ha sparato dai davanti ma non lo vedo zio caro raga mi devo curare eccolo dove? copriti mimmo lo è stato lo è stato ancora oh ce l'hai dietro morto bollione di merda oh servo fai t'affanculo andate bocchi di merda eh questo le ball fa scoppiare le teste oggi fai su kazuka fai su kazuka su kazuka su kazuka kazuka questo qua io son saltarlo davanti eh dio braaa minchia questo qua poverino li ha sparato da tutti i lati il nero io l'ho preso tre volte non è morto e io son saltarlo davanti